Tantissime le novità che il gruppo BCS ha presentato a EMA International 2016 che abbracciano tutti i settori merceologici nel quale il gruppo BCS è presente sul mercato. Quindi grande attrazione ha riscontrato la serie K105, i plus della macchina sono molti, partiamo dall'esclusivo inversore elettroidraulico Easy Drive che permette di invertire il senso di marcia senza l'utilizzo della frizione. Molto importante per quanto riguarda il post vendita del gruppo BCS, su tutti i trattori della serie K105 il gruppo BCS offre 4 anni di garanzia omaggio. Altre grandi novità del gruppo BCS presenti a EMA International riguardano il comparto della Fienagione con la nuova Rotex Edelweiss. Per quanto riguarda il settore della manutenzione del verde abbiamo presentato la nuova Matra 250 che va a ampliare la gamma delle macchine professionali rivolte alle municipalità e agli operatori del settore. Il gruppo BCS è da sempre sinonimo di innovazione, innovazione che trova espressione anche con la presentazione del primo trattore dotato di motore a benzina. Noi pensiamo che questa possa essere una grande innovazione, una grande possibilità per gli agricoltori che già sono orientati verso il futuro.